Ok, ecco Cristian che rientra dopo una parentesi di importunio da prima di Natale, ecco, sta eseguendo degli esercizi differenziati con il mister Gabriele di Felice. Sta preparando, alto piede piano piano, ok, il cuore respira, recupera, andiamo insieme piano piano, recupera, andiamo indietro sulle punte. Gradualmente sta riprendendo piano piano a piccoli passi per tornare al top. della condizione.